Il concetto di sostenibilità ed impatto ambientale sono stati al centro della costruzione di questo stabilimento. Particolare attenzione sono state poste agli impatti energetici. Utilizzando delle tecniche innovative sono stati isolati tutti i terreni in modo da contenere le dispensioni termiche verso il basso e pariteticamente verso l'alto. Particolare attenzione è stata opposta a tutto il ciclo dell'acqua dove tutta l'acqua dello stabilimento e quindi del processo stesso viene trattato da un idoneo impianto di trattamento e l'acqua risultante di questo impianto alimenta addirittura un ambiente ecologico comunale. Anche alla fine del percorso di produzione non viene a mancare il controllo da parte della qualità per tutte le verifiche di conformità. Qualità del prodotto, ricerca, lotto, altre sono destinate al laboratorio per la ricerca di tutti gli indicatori microbiologici che definiscono il profilo igienico di un alimento.